Ciao ragazzi, un bellissimo sole alle mie spalle, sono a Roma, l'epica capitale d'Italia. Qui alle mie spalle è il Colosseo e al mio fianco Antonio Calzolaro che fa parte del nostro coloratissimo Color Center. Raccontaci la tua esperienza Antonio. Io ho vissuto un anno in Polonia, quindi con Mastro Europeo vi farò da tutor motivazionale. Oggi qui a Roma vi parliamo di premi, i primi tre. E riceveranno un tablet NFC. Ammazza e poi i primi di ogni Master un appartamento in affitto in tutta Europa. Dove vogliono? A Varsavia, Dublino, Bruxelles oppure qui a Roma con Gustavo Colosseo. Quindi ragazzi iscrivetevi ad Uniba, volate in Polonia, il paese dei balocchi. Ciao, ci vediamo a Roma.